Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi prima di cominciare voglio parlarvi di Union Birrai. Union Birrai è l'associazione di categoria che raggruppa tutti i professionisti del settore birre artigianali in Italia. Come associazione non sviluppa solo attività dedicate ai birrifici, ma anche ai privati che vogliono scoprire di più sul mondo birre di qualità. Union Birrai infatti organizza dei corsi in tutta Italia, sia di degustazione che di produzione casalinga. Se questo podcast, come spero, vi spinge a essere curiosi e a non fermarvi alla prima, vi invito a andare sul sito di Union Birrai nella sezione corsi e di cercare il corso più vicino a casa vostra. Oggi parliamo di un film del 2022, o forse dovrei dire DEL film del 2022, attualmente disponibile sul canale iWonderful, accessibile tramite Amazon Prime Video. Il film si intitola Everything Everywhere All at Ones, è diretto dai Daniels, è interpretato dal Michelle Yeoh, Kei Hui Kwan, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis. Il protagonista del film è Evelyn, un'immigrata cinese negli Stati Uniti, che gestisce una lavanderia a gettoni con il marito Weymond. I due hanno una figlia, Joy, che è un adolescente omosessuale, che con grandi difficoltà sta cercando il suo posto nel mondo, anche perché sua madre non accetta la sua omosessualità. In realtà Evelyn, della figlia, non accetta proprio niente, perché Joy è nata in America, è 100% americana, mentre Evelyn è ancora un po' legata a delle tradizioni e a dei dogmi un po' retrogradi, tipici della società cinese, soprattutto riguardo alla famiglia e alla sessualità. Dalla Cina arriva l'anziano padre di Evelyn per festeggiare una festività cinese e Evelyn è terrorizzata che il nonno possa scoprire l'omosessualità della nipote e quindi chiede alla figlia di non essere gay, almeno finché il nonno è in casa. E questa richiesta non fa altro che aumentare la distanza tra madre e figlia, figlia che si sente sempre più sola ed emarginata. Anche il rapporto tra Evelyn e il marito scricchiola. Il marito Waymond è una persona molto gentile, sorridente, positiva, ottimista, mentre Evelyn negli anni sembra aver perso il gusto delle piccole cose, sembra essersi indurita sotto una coltre di stress e preoccupazioni. L'universo di Evelyn inizia quindi a scricchiolare da più parti, oltre al rapporto difficile con il padre e con la figlia, c'è anche il rapporto un po' scricchiolante con il marito che tra l'altro vorrebbe il divorzio. In più ci si mette un eccentrico esattore delle tasse, interpretato da Jamie Lee Curtis, che trova delle irregolarità nella dichiarazione dei redditi che riguarda la lavanderia Gettoni e minaccia di chiuderla. Nel momento di massimo apice di tutti questi punti di stress, la personalità di Evelyn si splitta in due. Noi vediamo letteralmente la donna uscire dal suo corpo e finire in un altro universo, un universo parallelo. In questo altro universo c'è un'altra versione di suo marito che le dice che lei è l'unico essere vivente del multiverso in grado di fermare una terribile minaccia. C'è infatti una entità malvagia chiamata Jobu Tupaki che ha acquisito il potere di essere ovunque e in qualunque momento contemporaneamente nel multiverso e vuole usare questo potere per distruggere il multiverso stesso e lasciare al suo posto un buco nero che poi non è un vero buco nero ma è un gigantesco bagel andato a male. Evelyn inizia così a viaggiare da un universo all'altro e a vivere tutte le esperienze delle sue versioni alternative. C'è un universo in cui è una maestra di Kung Fu, in un altro è una famosissima attrice e in un altro ancora ha degli hot dog al posto delle dita e delle mani e ha una relazione amorosa proprio con l'esattore delle tasse. Ma il viaggio nel multiverso non è privo di pericoli. Infatti Evelyn è inseguita da una versione malvagia di suo padre e da Jobu Tupaki stesso che non vuole interferenze con il suo piano di distruzione. Finalmente dopo un turbinio di arti marziali e salti spazio-temporali arriviamo al confronto faccia a faccia tra Evelyn e Jobu Tupaki e con nostra grande sorpresa scopriamo che Jobu Tupaki è una versione alternativa di Joy, la figlia di Evelyn. Nel multiverso infatti esistono infinite versioni alternative di noi stessi e queste versioni alternative prendono decisioni diverse rispetto alla versione alfa creando così delle linee spazio-temporali diverse da quella che noi consideriamo la realtà. Nella teoria del film viaggiare in un universo parallelo vorrebbe dire incontrare una versione diversa da noi. Invece Joy per sfuggire alle sue inquietudini adolescenziali e soprattutto alla sofferenza di non riuscire a creare un rapporto con sua madre ha iniziato con la mente a viaggiare nel multiverso e in ogni universo parallelo ha trovato la stessa distanza e lo stesso pregiudizio della madre nei suoi confronti. Quindi in pratica non esiste un universo in cui Evelyn accetta la figlia e questo ha creato il paradosso di Jobu Tupaki e ha creato anche un sentimento nichilista in lui che vuole distruggere la realtà. E qui il film fa un cambio di ruoli inaspettato perché paradossalmente la cattiva del film diventa Evelyn che finalmente capisce perché è lei l'unica persona che può cambiare le sorti del multiverso perché solo amando incondizionatamente sua figlia ed accettandola per quella che è può sedare la sete di distruzione di Jobu Tupaki. In un epico scontro di arti marziali tra madre e figlia dove ad ogni colpo corrisponde un salto temporale nel multiverso finalmente Evelyn trova l'empatia necessaria per accettare la figlia e le dimostra tutto il suo amore in un coinvolgente abbraccio. Le linee temporali tornano alla normalità e torniamo nell'universo alfa, quello dove è iniziato il film dove tutto sembra essere tornato alla normalità. Evelyn accetta la figlia per quello che è, addirittura Joy presenta al nonno la sua fidanzata anche tra Evelyn e il marito Weymond le cose sembrano essere tornate a posto e addirittura l'esattore delle tasse decide di dare una seconda possibilità a Evelyn di presentare la dichiarazione dei redditi e quindi anche la lavanderia a gettoni è salva e quindi un lieto fine a tutti gli effetti. Everything Everywhere All at Once è un film molto strano non posso dire che mi sia piaciuto, però ve ne consiglio comunque la visione. A livello di temi e contenuti è molto ricco, la metafora dei salti nel multiverso per sfuggire alle proprie inquietudini adolescenziali è molto forte. La realizzazione da un punto di vista tecnico e di altissimo livello è un film di fantascienza spostato più sull'auto umano ma è comunque un film di fantascienza che però predilige molto gli effetti speciali pratici, ovviamente c'è del digitale ma non particolarmente invasivo e questo dà al film un'aurea anche molto ironica. Il cast è assemblato alla perfezione e le scene di atti marziali sono veramente coinvolgenti però se devo trovare un grosso difetto a questo film è che è un film esagerato, esagerato in tutto ogni inquadratura ti riempie come una grande abbuffata e alla fine del film sei sazio ma in modo negativo come se tu veramente avessi mangiato troppo. Quello che non perdono a questo film è che seppur nasca da temi ai quali tutti ci possiamo rapportare nei quali tutti ci possiamo ritrovare, il rapporto difficile con la famiglia, l'accettare se stessi nell'adolescenza ha una messa in scena di questi temi troppo espositiva, ti spiega tutto e ripetutamente è come se temesse che lo spettatore non lo riuscisse a capire fino in fondo mentre almeno personalmente credo che il bello di un film sia anche il non capire tutto ecco Everything Everywhere All At Once ti toglie la possibilità di farti un'idea tua è come leggere un complicatissimo libretto di istruzioni di un qualcosa di affascinante che però a lungo andare è veramente stanca il film ha vinto gli Oscar più importanti che c'erano in palio ha vinto miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior regia miglior attore e attrice non protagonista e miglior attrice protagonista più altri premi tecnici era davvero il miglior film dell'anno? secondo me no, però credo che gli Oscar non sempre vadano a premiare il migliore ma che molto spesso e soprattutto quest'anno siano stati un po' una cartina tornasole del grande sogno hollywoodiano tutto ciò che riguarda questo film racconta il sogno a partire dai registi, i Daniels sono due ragazzi molto giovani al secondo film due outsider che sognavano di fare cinema sin da quando erano bambini e hanno battuto a livello di premi gente del calibro di Spielberg e Cameron l'attore Kei Ui Kwan che è stata una star da bambino ha recitato in un Indiana Jones ed è stato il Data dei Goonies che è un film mitologico che però crescendo non ha più trovato spazio a Hollywood ed è tornato a recitare proprio convinto dai Daniels e ora si ritrova ad aver vinto un Oscar Jamie Lee Curtis figlia di attori famosissimi plurinominati e mai vincitori che vince un Oscar e salendo sul palco ammette che non ci stava credendo neanche lei tutto ciò che riguarda questo film è un grande spot del sogno è come se dicesse credeteci ancora perché Hollywood può ancora realizzare i vostri sogni che per carità non frantendete è un bellissimo messaggio ma credo anche che sia un po' fuorviante perché per me il cinema soprattutto a Hollywood è un'altra cosa e avrò modo di parlarvene nel prossimo episodio il film ce lo siamo gustato e adesso abbiniamoci una bella birra la birra che ho deciso di abbinare a Everything Everywhere All at Once è la Hato Sour del birrificio polacco Nepo la Hato Sour è una Pastry Sour con pesca, yuzu e zenzero è uno stile molto moderno ed è un mash up di dolcezza, spezie e acidità ha una gradazione alcolica media, 6 gradi e 1 ed è in un certo senso una birra folle come questo film in ogni occasione per decidere che birra bere è necessario conoscere le caratteristiche dei vari stili di birra per esempio se ordino una Pils mi aspetto di bere una birra chiara con un buon sapore di cereale e una punta di amaro non particolarmente persistente se invece ordino una double belga mi aspetto una bella birra ambrata abbastanza alcolica e con un buon sapore di zucchero leggermente bruciato ma il mondo della birra può anche sorprendere un po' come questo film esistono anche quei casi in cui io ordino una birra e non sai che cosa andrai a bere e questa birra che ho scelto per Everything Everywhere All At One è esattamente così anche perché lo stile Pastry Sour con aggiunta di frutta è uno stile nato veramente in anni molto recenti ed è tipico di birrifici molto sperimentali che vengono soprattutto da paesi che non hanno una grandissima tradizione birraglia e quindi si sentono più liberi di giocare e la Polonia è uno di questi paesi e quindi è una birra che potremmo definire un po' inventata che sembra venire da un multiverso birraio e mi è sembrato l'abbinamento perfetto per questo film ricordo ancora di andare sul sito di Union Birrai per vedere se ci sono dei corsi di degustazione o di home brewing vicino a casa vostra per coltivare la vostra curiosità dalla versione di Barley è tutto buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima